Plotoni di ignomi E tormenti ve ne sono alcuni Che preannunciano un inverno gelido Gli adi di buona ricordi Attraversa Come amico nostro Cioè un amico che viene Che non fa paura E voglio che non sei colcato Colcato il bambino Il lupo è anche un amico del nostro E quindi oggi io ballo con i lupi So con i lupi E di me lupi Vedo solo volti malinconici Che non sanno cosa chiedere E pantofole che passeggiano Nervosamente in un bianco viale Vedo piante ed alberi rigogliosi E vedo la mia ombra Passarmi davanti Vedo bianchi gendarmi Che sorvegliano un foglio Gli arsenali Sale e scende l'ascenso Sale e scende l'ascenso E torna anche il dottore Resto uomini Fra la cerchia Come neve E bianca i capelli Resto uomini Fra la cerchia Che cos'è un tocchio E' un affare Che mi serra la gola Devo chiedere il mio paese E niente Buongiorno e buonasera E benvenuti a questa nuova puntata Di Poste a Sport Anche questa sera Su questo sono fantastici ospiti Da tutto il mondo Ma prima di presentarvi Risponderemo alla domanda Della puntata precedente E chiedete Il coccodrillo Come fa? A tutti coloro Che hanno risposto esattamente Il coccodrillo fa male Se ci cadono le fauci Vi cercheranno Comunemente a casa Il nostro fantastico premio Che consiste in un gran Becker Niente Che cos'è? A presto Che cos'è? Che cos'è? Chiedete Che cos'è? Che cos'è? Grazie a tutti. 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 Sogno, sogniamo e continuiamo a sognare, c'è poco da fare. Una volta ho persino sognato di un paese che degli esseri per metà uomini, metà maiali, avevano trasferito nel paese dei parocchi. Dicevano la gente, su coraggio, dicevano la gente, su coraggio, non fate gli sciocchi e vedrete che in questo paese non avrete più quei parlamentari magari abiti di danare mai a Bari. In questo paese avrete tutti in banca, in questo paese avrete tutti in banca, in questo paese avrete tutti in banca sempre un conto oneroso. Ed è per questo che è per questo che per si malice dice che questo paese dice che questo paese è più meraviglioso, che qui la vita è uno spasso, è un orgasmo. Ma peccato che queste rime siano solo figlie del sarcasmo, dentro il mio sogno. Dentro il mio sogno, e da quel sogno ho giunto più, ho aperto gli occhi e mi sopporto attorno. E ho visto che questa realtà è più più surreale. Ed è per questo che a volte mi riferisco a chiudere gli occhi e continuare a sognare. Grazie. 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 Le donne che corrono con gli uomini sono donne rare che con coraggio corrono, passeggiano con loro senza alcun problema. Il lupo che per tanti è un animale inavvicinabile invece non è così. Spesso succede il contrario. Sapete qual è il contrario? Invece il lupo ed altri animali cosiddetti sono più docili di altri. E' stato dimostrato tutto ciò. Allora apprezzo queste donne che non solo il lupo ma anche l'animale che è l'uomo che per tanti è inavvicinabile. Questi si avvicinano senza paura. Allora, donne che hanno, non hanno paura, avanti. Grazie. 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 The忘andate. The忘andate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.